Due reti pesanti, quelle realizzate da Sebastian Meneses ad Altamura, che con la sua prima doppietta in maglia bianca azura ha permesso al Brindisi di rimontare lo svantaggio e sfiorare anche il successo. Due marcature diverse, realizzate in soli 45 minuti per l'attaccante cileno classe 1988. La prima di forza e la seconda con un perfetto colpo di testa. Meneses risponde presente al tecnico di Costanzo, che potrà quindi contare anche su di lui per cercare gol salvezza. Contenti, contenti per questo punto che ci lo teniamo stretto, ma torniamo con l'amarezza di poter portare qualcosa in più a casa. Sicuramente non è stata una partita semplice, anche quando sei entrato tu, un secondo tempo diverso, in cui il Brindisi con la superiorità numerica è riuscito a pressare e quindi a rimettere in piedi la gara. Sì, c'è stato un primo tempo in cui è finito con il 2-0, ma siamo riusciti a portare avanti la partita, pure se con questi errori siamo stati bravi a approcciare, andare avanti il secondo tempo e ci lo siamo meritati. Noi comunque abbiamo una squadra molto ampia, ma c'è sempre spazio per tutti, alla fine andiamo sempre avanti tutti e se c'è da giocare 5 minuti o 20 o un tempo è deciso nel mister. Noi entriamo in campo con un obiettivo e andiamo avanti così. Tornato tra i protagonisti, anche Vittorio Triarico dopo l'infortunio, che con la sua esperienza però ha già il pensiero rivolto alla sfida con il Gravina. Quest'anno è capitato tante volte di giocare ogni tre giorni, fortunatamente abbiamo una rosa ampia con tanti giocatori validi che si possono alternare. Io e Jack lo stiamo facendo e quando siamo camminati in causa cerchiamo di dare sempre il nostro contributo.